Siamo a Castellamare, cucinare Ferrara! Ferrara, guarda cosa ci aspetta davanti. Ah, è un piacere, guarda. Diciamo che la salita di Algerola è una salita pedalabile. Siamo in verso un piacere, un po' di ponte, e poi scendiamo e conunciamo ad ammirare lo spettacolo che troviamo a scendere, infatti. Diciamo che questo giro è un giro di piacere, un po' di allenamento. Per tutti coloro che non sono venuti stamattina. Ma, per l'appunto, ho fatto un invito, mi fa piacere di tutti quelli che ci sono e mi dispiace per quelli che non ci sono. Beh, da parte mia, da parte tua, un saluto a tutti. Un saluto a tutti, ovviamente, è normale, questa è la prima cosa. Ciao ragazzi, sempre con Gennaro sulle vie di Castellammare, nel centro storico, ma già stai attendo qua, però, immagino, non tornassimo a questa mannata. Questo non è, non è il centro storico. No, non è il centro, è il centro, è il centro, è una cittadina. Il centro storico è molto strumento, molto sarracento. Eh. Comunque si esce, a dopo, a te qua mi distraggo, posso cadere, distraggo dalla strada. Ok, ok, ok. Come un pavimento, come un privato, come un privato, come un terra e un tipo, come un terremoto, come Alisa, se c'ha il truco, non fa neanche 2.000 euro, l'uomo del 2000. Che diceva Lucio Balla, occhio a palla, guarda la tacca, sembra la serie, il pavimento, balla. La verità sballa, è stupefacente, sempre si scifa la gente, ti vedo via la testa, invitato speciale, invece sono in guerra e inviato speciale. Vabbè che si aspetta, che mi aspetta? Vabbè che ancora a torto, sembra che stiamo in scena, in diretta, non lo so, non lo so, io spero che me la capo, io spero che me la capo, vabbè, siamo tutti un po' stanchini, tra poco, tra poco, ciao Presidente, ciao Presidente, abbiamo messo il tuo cartello sulle tue ombre, se andiamo là paghi tu, paghi tu, sulle sue norme, ho detto 34, primo strappetto tutto è andato, e non siamo anche all'inizio, professore, sempre con quell'area seria, distinta e unica, della stanchezza. fanno così, anche così, nella vita normale. Ciao Gennaro, la mia non è una propaganda, per me conta più l'amicizia, non una stupida competizione, ma non siamo venuti qui per competire, competizione di allenamento, allora, si sale elastici, da quelli, dagli altri, quelli che vogliamo fare, a me non importa, l'importante, allora, ci troviamo a Piemonte, sempre con Gennaro Ferrari, è il sottoscritto, e siamo sulla salita di Piemonte, la salita verrà a Gelo, la salita verrà a Gelo, dopo ci fermiamo, ci abbiamo una bella mozzarella, e per gli altri che stanno avanti, si era deciso in una maniera, e hanno fatto diversamente. Hanno trasformato la cicloturistica in una competizione? E io, e io, sto con Gennaro, perché è un amico, ma se neanche non lo puoi, sta da essere sempre in compagnia, o sbaglio Gennaro? Certamente, è così. Poi, tra me e Gennaro c'è stato rispetto e stima, e quindi, quando si mette in ballo la dignità di un uomo, non si scherza. Oltre al famoso completino ci sono gli ubi, gli ubi, infatti. A dopo.